E si comincia, è iniziata Real Forio, Hermes Casagiove. C'è sempre la difesa a trepo, attenzione a questa azione De Felici, il pallone in mezzo, arriva Chiaiese! 1-0 Forio, ritorna al gol Ciccio Chiaiese e questa è una notizia sicuramente positiva. Chiaiese tra le linee per Costaiola, bellissima giocata di Vitagliano, ancora Vitagliano, Vitagliano si fa stoppare da De Rosa. Chiaiese, attenzione a Calise, 2-0, no, annullato, anzi no, ha segnato, ha segnato. Ancora Lorenzo Costaiola, questa volta non c'è il tacco, pallone in mezzo per Trofa, che occasione sprecata. De Muto, pallone in mezzo, Pezzullo, tutto fermo. No, c'era stata comunque la parata poi di solo. Non era male l'idea, l'esecuzione comunque da rivedere, recupera il pallone in Forio. Attenzione a De Felici, il tiro! 3-0 del Forio, ancora un gol di De Felici, l'undicesimo in campionato. Si riparte con il secondo tempo tra Hermes Casagioverre e Al Forio. Sono persi circa 3 minuti, ora si parte. Adesso o è calcio di rigore, è calcio di rigore, sì, calcio di rigore. E Rosso, De Felici, 4-0 Forio, non sbaglia, spiazzato De Rosa. De Felici, pallone per Massimo De Luise che prova il tiro al 24esimo. Occhio adesso alla Casagioverre, il tiro, pallone sul fondo. E cercheremo di capire tra poco chi è uscito. Attenzione adesso a De Felici, De Felici. Vittorio De Luise è libero. Attenzione, Vittorio De Luise, il pallone per Chiaiese. Non va. Tanto attenzione al Forio, pallone in mezzo per De Felici. De Felici, la parata non è finita. Chiaiese, messo giù Chiaiese. Attenzione adesso a Chiaiese, ancora De Felice. Sta arrivando Toni Costaiola. Costaiola, pallone sul fondo. Il Mondragone qui allo stadio Calise, quindi altro scontro diretto. Tanto attenzione a un tiro del Casagiove. Trovo Hermes Casagiove 0. Attenzione, nessuno ferma De Muto. De Muto, il tiro, la seconda parata di solo. Pallone per Massimo De Luise. Vediamo se riesce a trovare il gol. Massimo fa tutto da solo. Pallone per Chiaiese. 5 a 0 e assist di Massimo De Luise. Finisce qui la partita. Il Real Forio batte 5 a 0. L'Hermes Casagiove. Come si non mi sta avendo una diversa gioca.